ok edwalexpie dobbiamo aiutare beefboygamer non ho tutta la mappa della città però si è colpa mia mi si è spezzata quindi aspetta oh si e i giallaxpie è morto ok marty vj dobbiamo andare nella casa di pennywise ad aiutare beefboygamer e gli devo anche dire questa notizia e i giallaxpie è morto quindi dobbiamo andare nella sua casa e tantissime volte che vado nella sua casa non ce la faccio più ogni volta devo sempre scappare e se mi ferisce pennywise e devo venire in questo ospedale qui ok ci siamo qua c'è il porgadorio però questo non fa niente non so perché nella terraferma qui nella città c'è il porgadorio e c'è non lo so marty vj non mi fare queste domande perfetto allora io sono bravo col parco quindi riesco a fare così e dai cacchio ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta sì perfetto eccola casa di pennywise di nuovo devo sempre stare qui e ok sono pronto ok aspetta però non posso passare per la porta qui devo passare qui devo passare ah lo so prendo un blocco di terra e lo butto qui e devo scappare ok 3 2 1 via corri 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 ok entra piano 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 ok oh oh sì sì le porte è veris che mi è scanna si è quella giusta è quella giusta non ci crede quella gi è uno sul cat vabbè vado in not scary ok ok porca miseria oh mio dio ok dove vado mi devo nascondere salve oh oh mi fai giocando mi fai giocando mi fai giocando dobbiamo scappare di qui dobbiamo scappare dobbiamo scappare vai 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 aiutatemi ragazzi aiutatemi yes si ok andiamo anche qui andiamo anche qui veloce 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 ok quanto tempo porca mia oh mio dio veloce veloce si si correte ragazzi correte andiamo nel centro della città correte 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 ok ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta ti ho ritrovato dove cacchio perchè è successo non sei è colpo di penne andiamo andiamo ok oh mio dio è ripido ok ce l'abbiamo fatta ok devo andare nel centro di oh mio dio ragazzi ce l'abbiamo vi ho ritrovato di nuovo ci siete non ci siete per oggi ok ce l'abbiamo fatta e sta pure piovendo ragazzi bifboi game ti ho ritrovato ma mi sa che so che cosa è successo te lo ricordi quando sei venuto a casa tua no per la prima volta ecco c'era bifboi c'era pennevoi si lo so ecco appunto ecco devi spiegare come hai fatto a morire scusa cioè ok io ti ho visto morire quando c'era la zombie apocalypse e oh aspetta santa claus babbo natale ha fatto un miracolo e ti ha oh allora oh adesso ho capito ha molto più senso adesso oh oh ragazzi il sole il il sole il sole il sole il sole che bello è da un botto di vita che non ti vedo sole il sole questo è bellissimo chi è che ci chiama eh ho corso tantissimo non ce l'ho fatta più io sono oh ok ehm ricordate di me ehm io sono la persona di che che vi ho annunciato la zombie apocalypse vi ho seguito per tutto sto tempo e e vi ho visto correre via da da quel clown quindi io io so chi è quel clown e adesso vi dico la storia che ci sono Oh, questo ha senso. Grazie signore, però non so come ucciderlo, è impossibile, non sappiamo le cose debole. Grazie a tutti. Grazie a tutti.